Da qui riesco a vedere a 360 gradi, vedo attraverso da questa angolazione, sono in piedi su una mole e la prima mole non si scorda mai. Artista poliedrico e voce unica nel panorama teatrale e letterario italiano. Alessandro Bergonzoni è stato il protagonista del taglio del nastro della prima edizione di Festival Smart, di Officine della Cultura, Direzione Regionale, Musei Toscana, Fondazione Guido D'Arezzo e la Filastoccola. Sostienimi, dentro la parola sostienimi c'è la parola SOS, save our soul, salva le nostre anime. Via rimani della porta, via rimani della porta, 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 non è un sostantivo, è un verbo, porta a me con te, porta a me lontano da qui, porta a me in salto. Sul palco del Teatro Petrarca, l'artista, autore, attore, scrittore bolognese ha portato Trascendi e Sali, uno spettacolo ed insieme un consiglio ed un comando, o forse solamente una constatazione o un pensiero da sviluppare e da racchiudere all'interno di un concetto ben più complesso, come solo Bergonzoni riesce a fare. Abbiamo sempre il piede di guerra, siamo sul piede di guerra, rischiacciamo gli indici di povertà, piedi di guerra, indici di povertà, sciacalli, sciacalli, sciacalli. È nata lì la parola sciacalli, mi sta trascendendo anche un cavolo su due piedi, che non so se è veloce o passa da un piede all'altro, da un piede all'altro. È tutto qui, è tutto qui, molti mi chiedono ma è tutto qui, è tutto qui, perché ci dobbiamo lamentare quando uno dice tutto qui? È tutto qui, questo è il pensato del giorno, come il pescatore la sera torna col pescato del giorno, io ogni sera sono qui col pensato del giorno. Io infatti penso spesso, molti mi dicono sottigliezze, ho detto penso spesso, penso spesso, è una questione di strati, in che strato siamo, in che strati siamo, incastrati siamo. Dobbiamo cambiare dimensione, fare un salto in altro, non possiamo più continuare così.